a far crescere il vostro canale youtube mi spiegherò i consigli di tutto quello che ho imparato su youtube in questi anni io vi saluto e spero di rivedervi presto like dislike like 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 ragazzi se ancora non l'avete visto corretti te sto proprio a aspettare grazie grazie veramente di cuore a tutti quanti ragazzi siamo arrivati i primi sulle tendenze di youtube la 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 is like 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 Grazie a tutti.